L'EH Che cosa significa essere un leader? Non rispondete alle provocazioni! Ti prego, non ti immischiare. Io non so non immischiarmi. Tu hai una famiglia tua. Hai dei figli, ricordi. Andate via, tutti quanti. Anche tu. Vogliamo che la legge domini sull'illegalità! Reset! Signor Vauwensa, lei è finito. È iniziato lo sciopero di protesta! Sì! Se non torno, vendi questi. Sette mesi fa, nessuno conosceva il suo nome fuori della Polonia. Fermo! Avete iniziato una contro-rivoluzione. Lo sheik, se cominciassi ad avere paura... Anche io ho paura, Danuska. Ne, Naruto. Noi, il popolo.